E' l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. In occasione di un viaggio formativo a Roma degli imprenditori che stanno frequentando la scuola di politica ed economia di Confartigianato, la giunta dell'associazione ha incontrato i parlamentari vicentini per consegnare loro un documento in cui si fa il punto delle problematiche che quotidianamente incontrano le imprese. Un'analisi che ha prodotto proposte concrete su temi quali burocrazia, ambiente, normative di settore, produzione, casa, trasporti, alimentazione e servizi alla persona, credito, fisco, giustizia, lavoro, ivi compresa l'occupazione giovanile. Come ha spiegato il presidente Agostino Bonomo, l'incontro rientra nel percorso di dialogo già avviato sin dal momento dell'elizione dei parlamentari vicentini. Le osservazioni presentate nascono dall'esperienza reale di chi ben conosce i disagi provocati da norme e disposizioni spesso promulgate e a taglia unica, quando invece la realtà produttiva del paese richiederebbe un'attenzione ai suoi diversi scenari, partendo proprio dalle peculiarità della piccola impresa. Ai parlamentari vicentini è stata inoltre consegnata copia della pubblicazione In ostaggio della burocrazia, realizzata proprio dagli imprenditori che hanno partecipato allo scorso ciclo biennale formativo della Scuola di Politica ed Economia di Confartigianato Vicenza.